Continua la flessione di contagi e ricoveri nelle Marche, come nel resto d'Italia, eppure arriva un'altra data spartiacque nella campagna di prevenzione al contagio da Covid-19. Da martedì 15 febbraio scatta infatti l'obbligo di Super Green Pass nei luoghi di lavoro per chi ha più di 50 anni. Una fascia anagrafica nella quale di fatto si innesca l'obbligo vaccinale per recarsi sul posto di impiego. Un provvedimento che era alle porte da mesi e che alla vigilia del via vede ancora 10.400 over 50 pesaresi ancora non vaccinati. Una cifra all'ordo di coloro che sono però esentati da vaccinazioni per specifiche esigenze sanitarie ma che risulta comunque consistente. Anche perché da oggi avere 50 anni e presentarsi al lavoro senza Green Pass si tradurrà in una multa compresa fra 600 e 1.500 euro. Sono sanzionabili chi non ha nemmeno una dose di vaccino, chi non ha effettuato la seconda dose entro i termini previsti e chi non si è sottoposto a richiamo prima della scadenza del Green Pass. Il provvedimento include chi compierà 50 anni entro il 15 giugno che è la data di validità di questo obbligo vaccinale. Rientrano nel provvedimento anche chi si reca nei luoghi di lavoro per attività di formazione o volontariato. Multa parte, chi non ha il Super Green Pass rafforzato risulterà assente ingiustificato e perderà retribuzione e contributi. Dopodiché dal quinto giorno di inadempienza scatterà anche la sospensione dal servizio senza stipendio. Ad essere multati saranno anche i datori di lavoro che si asterranno dal controllo. Per loro le multe andranno da 400 a 600 euro. Particolare non indifferente non sarà sottoposto all'obbligo di controllo chi lavora in smart working.